E tra i nuovi prodotti di questa settimana DD Hammock con il suo DD Super Light Tarp. Che cos'è un Tarp Super Light? Beh, è come un Tarp classico che siamo abituati a utilizzare ma è ultra leggero. Questo pesa solo 460 grammi ed è anche molto resistente perché è in nylon micro ripstop, cioè antistrappo. All'interno ci sono paletti, cordini in dotazione, tutte le informazioni su backpack.it. Non posso aprirlo qui in studio ma vi garantisco che è un amore.